Ecco c'è l'ingresso in campo delle due compagini, direttore di gara signor Ciccoccioppo della sezione Aglio di Lanciano, la Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallorossa mentre il piazzano biancazzurra c'è il saluto al pubblico forse ragazzi ha detto giovedì lo facciamo giovedì con l'erbetta forse ragazzi in bocca al lupo fa la panchina la panchina del piazzano in bocca al lupo